Ciao a tutti stelline e stelline, io sono Ginevra del canale Polvere di Stelle e questo è il video sorteggio con la busta di Halloween per i tre vincitori del mio concorso. Quindi adesso sorteggiando vedremo i tre vincitori chi saranno sul mio concorso Instagram, scusate, perché chi non lo sapeva magari si chiedeva ma dove l'ha fatto. E l'ho fatto su Instagram e quindi adesso li sorteggeremo, siete pronti? E allora 3, 2, 1, plim, 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 polvere di stelle, sorteggio! Vediamo? La stanza di Giovanni! È troppo forte per un sorteggio Barbara72 Kimberly Hamilton Ciao ragazzi, un bacione stellare e adesso i tre vincitori riceveranno una storia inventata da me in un messaggio privato su Instagram. Ciao!